Bianca Nappi, La mia famiglia a soquadro, cioè Bianca che film è? La mia famiglia a soquadro è una commedia che ha al centro la storia di Martino, un bambino che vuole sentirsi come tutti gli altri, cioè avere i genitori separati. Invece il suo problema è che i suoi genitori stanno insieme e vanno anche molto d'accordo e questo lo fa sentire un diverso in un mondo in cui tutti i suoi compagni di classe invece hanno i genitori separati, quindi fanno doppie vacanze, hanno doppi regali e quindi lui farà di tutto per far separare questi genitori. I genitori sono io e Carlo che è interpretato da Marco Cocci. Senta Bianca, lei conosce Max Nardari? Mi dice qualcosa. Che cosa le dice? Mi dice che è il regista della mia famiglia a soquadro, lo saluto. Ecco, Max Nardari, lei è il regista? Sì, sono regista e anche produttore, che è la cosa più complicata. Perché era un'idea che avevo da tanti anni. Come arriva questa idea? Quest'idea nasce da un cortometraggio del 2008 che avevo fatto e da più parti mi era stato detto che l'idea era molto originale e quindi ho deciso di sfidare tutto e tutti e di girarlo autonomamente anche per scegliere gli attori che volevo e fare un film divertente ma che affrontasse tematiche sociali importanti come il bullismo, l'omologazione e anche il divorzio, insomma, il tema della disgregazione familiare che ho respirato anche nella mia famiglia perché mia madre ha avvocato quindi ho voluto raccontare attraverso il linguaggio della commedia arrivare a tutti con un sorriso. E la prima soddisfazione è stata il fatto che in America ci hanno chiesto il diritto di remake ed è un po' il contrario di quello che accade normalmente perché normalmente noi facciamo spesso dei remake di film stranieri e abbiamo fatto una partenza da Tokyo a un festival importante. Anselma lo ha visto questo film, Anselma, la mia famiglia a suo quadro. Sì, è un film fatto con cura, si capisce, con attenzione, si svolge, devo dire, migliore andando avanti il ritmo, curioso, in genere i film sono migliori all'inizio, invece prende il ritmo andando avanti e si guarda volentieri, c'è un po' un eccesso di messaggio ma si è risaputo che a me i messaggi piacciono poco, però la cosa si svolge e sono gradevole è un'ora e mezza molto gradevole. Allora, andiamo avanti con gli altri attori di questa pellicola vale a dire Eleonora Giorgi, Elisabetta Pellini e Marco Cocci. E li conosce tutti ovviamente. Sì, sì, tutti bravi e simpatici. Ecco, andiamo, vediamo. Sì, lo so, la mia è proprio una bella famiglia, una famiglia perfetta. Max Nardari nel suo copione ha immaginato una donna della mia generazione, autonoma che ci tiene anche al suo fisico, perciò l'ha fatta un'attrice e un'attrice di teatro famosa nel mondo, quindi una donna autonoma che probabilmente ha fatto molto soffrire la protagonista autentica del film che è Bianca Nappi che nel film appunto è mia mamma e più che altro nel film io sono sua madre che forse proprio per reazione a una madre tanto autonoma ha scelto una vita atipica per le sue coetanee cioè ha messo al centro della sua vita il suo amore, ha avuto dei bambini e cura la sua famiglia con un amore, con un divertimento, una leggerezza che verrà messo in crisi da suo figlio. Anna, prego. Ciao Carlo. Paola, che combinazione. È vero. Paola Baldini? Sì. Carlo mi aveva detto che eri cambiata ma non credevo fino a questo punto. È un ritratto piuttosto attuale della nostra società un film che racconta anche come sono cambiati i rapporti tra i ragazzi nelle scuole con appunto il fatto che ci sono i cellulari, i social e quindi anche questo crea delle differenze se vuoi in maniera anche leggera però tocca anche il sistema del bullismo tocca l'invidia perché Patti è invidiosa della famiglia di Martino che è una famiglia che si vuole bene quindi in qualche modo cerca di stimolarla in quella direzione è un film che racconta come una donna che è diventata, che è intraprendente e decide di abbandonare il figlio e il compagno per il successo e poi rendersi conto che non era quello che voleva e cerca di tornare indietro. È un film dove ci si diverte, ci si commuove? Beh direi che questo film sì, riflette la vita perché comunque è raccontato in modo fiabbesco molto fiabbesco perché è stata un po' addolcita la pillola perché la situazione reale è sicuramente un po' più seria però secondo me esce molto fuori la problematica della coppia la problematica dell'egoismo anche delle coppie che decidono di lasciarsi con la non curanza di quello che può succedere anche psicologicamente a un bambino che si ritrova con due genitori separati. Chiamo il pubblico, uscita a sala, ecco. Oggi ogni mille matrimoni ci sono oltre 300 separazioni e quasi 200... Ma certo perché si sposano a fare, no? Sì, lo so, la mia è proprio una bella famiglia. Ho appena visto, è un film veramente fatto molto bene ha una sceneggiatura, devo dire, molto ironica scritta molto bene e in particolare mi hanno colpito i personaggi perché sono delineati molto bene è difficile trovare dei film dove il personaggio sia connotato così bene allo stesso tempo ironico, leggero e poi comunque tratta un tema secondo me attuale di cui bisogna parlare che sono i figli dei separati e quindi è un film che va visto, assolutamente. È un film moderno, è un film che parla della realtà che noi tutti viviamo ma anche forse indirettamente o direttamente ma che dice la verità, dice una verità purtroppo vera è un film molto divertente e lo consiglio per vedere un altro punto di vista di queste famiglie che si stanno rivoluzionando. Il film è divertentissimo, allegro racconta delle situazioni reali ma in maniera molto in chiave leggera, ironica ed è quello che serve a noi. È esigerante e divertente dovete vederlo, non vi dico altro. Ciao!